ciao a tutti i miei followers e bentrovati a coloro che guardano il video per la prima volta sul canale traduzione canzone e canzoni spiegate in questa puntata andiamo a parlare come d'obbligo della vincitrice del festival di sanremo dopo diciamo anche le dispute che ci sono state su presunti brogli riguardo al televoto comunque angelino diciamo che se l'è meritato se l'è meritato perché comunque è una canzone che va a rompere un po gli schemi della musica italiana anche perché non è diciamo che la musica diciamo riproduce un canto sia un suono o anche un ballo popolare colombiano che si chiama la cumbia ma questo ne parliamo dopo quindi come abbiamo detto angelina mango ha vinto il festival e diciamo secondo me anche metterà merita la mente e perché comunque è una canzone diversa dalle altre che all'inizio magari non non ti non ti esalta però poi risentendola bene diciamo che veramente c'è questo ritmo che poi ti trasporta sono quelle canzoni che vanno ascoltate molte volte e il problema tra virgolette è che se questa canzone fosse stata scritta o cantata da diciamo in spagnola da rosalia per esempio era una hit mondiale perché comunque già era sulla bocca di una cantante al top e quindi secondo me se voi pensate a questa canzone cantata da rosalia pensateci un attimo secondo me sarebbe stata una hit mondiale anche perché sta avendo molto successo però diciamo che angelina mango è una novella e quindi non ha ancora molti seguaci anche nel nel mondo e angelina mango che appunto ha vinto meritatamente il festival e nella finale in cui è stata è stato ribaltato il televoto da casa cioè il televoto da casa è stato ribaltato dalla sala stampa perché mi sembra il televoto diede il 60 per cento a circa a giolier e invece la sala stampa ha dato soltanto mi sembra l'1,5 per cento ad angelina mango cioè veramente a giolier che veramente niente e quindi ha ribaltato proprio tutto tutto il televoto tutti i risultati e lei incredula è riuscita a vincere questo festival ma comunque lei aveva già partecipato anche ad amici esce da amici da maria dei filippi che in cui arrivò a seconda vinse la categoria cantanti ma arrivò a seconda perché vinse un ballerino quindi lei già effetto ha fatto anche quest'estate delle hit molto molto famose che sono andate veramente alla grande in streaming e e anche la la cover che ha fatto nelle salate delle cover di sanremo con la rondine è stata veramente molto bella stata veramente molto toccante perché ha cantato come tutti sappiamo sappiamo la canzone del padre di di mango che era la rondine che appunto lei la figlia di mango e della della e della cantante di mattia bazar e diciamo che tutta una una famiglia di musicisti cantanti perché anche il fratello ragazzo sono chitarristi batteristi eccetera quindi è nata proprio nella musica e come e quindi questo risultato e come abbiamo detto ha fatto la una bellissima cover del padre e la ronnie la diciamo la rifatta a suo modo un po più lenta mi un po più lenta del del classico della classica è stata veramente toccante veramente bella la riproduzione detto che l'ha dovuta fare per forza perché comunque un omaggio anche se lei poi non ha detto che dedicato nelle interviste la vincita la vittoria al padre cioè non l'ha proprio menzionato ma soltanto che detto che la dedica alla famiglia la dedica a lei stessa e basta cioè anche perché comunque il cognome è pesante e lei diciamo che sta sta veramente alla ribalta la canzone come abbiamo detto è uscita il 7 febbraio la prima sera delle promettute di sanremo e lei parteciperà anche all'ero visions on contest che si svolgerà in svezia a maggio e ha detto che canterà con questa canzone forse gli hanno chiesto anche se magari la 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 rimodellerà però detto per il momento non ci pensa però secondo me penso che lascerà così perché comunque il ritmo c'è e quindi il brano è stato scritto è stato scritto sia da lei che da madame infatti questa canzone a volte magari la potresti riascoltare anche con la voce di madame veramente anche si sente proprio anche che è sua e prodotta da dardast e come confermato dalla cantante si ispira ai ritmi della cumbia come abbiamo detto che cos'è la cumbia la cumbia è la parente di dio salsa e merenghe e rumba è un genere musicale un canto e una danza popolare colombiana dal carattere trietnico alla comunità nera si deve l'introduzione delle percussioni a quella indigena la parte armonica dei flauti e agli spagnoli le variazioni melodiche e coreografiche le origini della cumbia sono iscritte nella cubiamba una danza rituale collettiva che uomini e donne neri afroamericani facevano a piedi nudi sulla spiaggia intorno a grandi falò successivamente con l'arrivo delle comunità africane nelle piantagioni della colombia coloniale le piantagioni stesse vennero chiamate cumbe per via dei suoni e dei rumori che gli schiavi facevano durante il lavoro e quindi questo era giusto per capire da dove deriva la la musica e quindi anche lei dice la cumbe della noia perché la noia allora lei detto che la noia fa parte della sua vita è una parte importantissima perché con la noia lei riesce a diciamo a pensare a cose che se fosse sempre occupata non ci penserebbe quindi la noia la associa la socia alla creatività infatti i bambini per esempio quando si annoiano che fanno si inventano personaggi storie parlano con un amico misterioso perché si stanno annoiando e quindi dalla noia noi riusciamo a tirare fuori la nostra fantasia e quindi è importantissima la noia anche se potrebbe essere potrebbe essere frustrante però noi la dobbiamo accogliere ma cosa dice cos'è la noia nel vocabulario tre cani dice così è un senso di soddisfazione di fastidio di tristezza che proviene o dalla mancanza di attività e dall'ozio o dal sentirsi occupato in cosa monotona contro la propria inclinazione tale da apparire inutile e vana o anche il disgusto che nasce da ripetersi di cose uguali o da ripetere le stesse cose tanto da generare disprezzo quindi la noia deriva fondamentalmente da una cosa che si ripete in generale che potrebbe essere un lavoro noioso oppure un discorso noioso e quello appunto è la noia noi dobbiamo comunque prendere la parte positiva che è di cercare di dalla noia ripartire è un senso di ripartenza verso verso lo scoprire diciamo scoprire altre altre cose cioè la noia dovrebbe essere un trampolinaccio per scoprire nuove cose e quindi ha detto che si sono conosciuti con dardas e madame prima che prima che artisticamente umanamente e questo ci aiuta a trovare la linea delle canzoni quando ho sentito il polomino ho pensato che potesse andare bene per sanremo l'idea della cumbia è uscita chiacchierando con loro nel modo che ho di affrontare la vita questa canzone è nata da una riflessione sul tempo la noia è vista come una cosa negativa ma in realtà è tempo che dedichi a te stesso e ti permette di scoprirti tra una vita di alti e bassi e una di noia sceglierò sempre una di alti e bassi ma mi lascerò sempre del tempo anche per la noia il brano ha ottenuto recensioni favorevoli da parte della critica musicale italiana canzone allegra fresca spensierata con un'anima latina e un ritornello che profuma di tradizione mediterranea sonorità che associano al reggaeton e alla cumbia ottima hit con un testo interessante il brano si muove tra folk e dance e sebbene non sia epocale penso sia tra le tra le interpretazioni più originali della cantante il testo ribalta l'usuale concezione della noia sentimento che generalmente viene combattuto ma che l'artista invece accoglie come trampolini di lancio verso qualcosa di nuovo come un'occasione di rinascita spesso i momenti tristi sono insieme il preludio a una nuova felicità il buio prima della luce non si deve avere paura della noia va accolta è importante così come tutti i sentimenti che ci portano giù in fondo c'è una risalita sempre la noia non va combattuta è tempo prezioso dedicare a noi stessi e nei momenti difficili bisogna ballarci sopra concetto di fondo è che soffrire rende le cose più che soffrire rende le gioie più grandi angelina bambina incasinata con i traumi che ha perso il padre a 13 anni lo sa bene e nonostante tutto quello che la vita le ha già messo di fronte oggi canta sto una pasqua guarda zero drammi consapevolezza e forza di volontà capacità di andare i problemi di vivere con leggerezza ma non con superficialità queste sono le capacità più grandi di angelina che indossa sì una corona fatta di spine ma che è sempre pronta a fare a fare la festa e quindi questa è la spiegazione del testo della vincitrice del sanremo il 74esimo sanremo l'ultimo di amadeus vinto da angelina mango una diciamo una possiamo definire la teenager che ha avuto successo nell'ultimo anno e che farà molta strada sicuramente perché ha una voce particolare e veramente come come il papà è una voce particolare e canta queste canzoni che sono diciamo non non seguono quella quella linea dell'amore quella linea ma aprono altri confini guardano altrove non guarda soltanto amore ti amo ti voglio bene eccetera cercano di esplorare altri sentimenti che che fanno sempre bene e che sono anche molto metodici sono anche molto diciamo tormentoni ecco questa la parola giusta e con dei testi che non sono da sottovalutare con dei testi che non sono banali e quindi complimenti ad angelina mango e sicuramente ne vedremo parlare speriamo che vinca il song contest l'eurovision a maggio e quindi questa è la spiegazione della canzone vi invito ad ascoltarla attentamente con le spiegazioni abbiamo capito che cosa la cumbia cosa è la noia dal vocabolario e di cosa parla la canzone e quindi vi invito a mettere un mi piace se vi è piaciuto il video e di iscrivervi al canale traduzione canzoni e canzoni spiegate per continuare insieme questo percorso di traduzione di canzoni sia in inglese ma anche in altre lingue come spagnola francese ma anche capire di retroscena delle canzoni italiane che hanno scritto che hanno spinto questi grandi artisti a scrivere questi grandi capolavori come questo che ha vinto l'ultima edizione nel festival di sanremo e quindi vi ascoltate attentamente la noia di angelina mango per non annoiarvi vi ascoltate la noia per il momento è tutto alla prossima ciao